Ruote ferme pedoni salvi, il nome del progetto proposto all'amministrazione attraverso una mozione dai consiglieri comunali Valeria Visconti e Oscar Aiello, che è anche capogruppo della Lega. Si chiede infatti al sindaco e all'Aggiunta di aderire al progetto di sicurezza stradale, attraverso un protocollo di intesa tra l'associazione familiare e vittime della strada Ollus, il corpo di polizia municipale Nisseno e l'ufficio locale di esecuzione penale esterna. Il comune di Caltanissetta potrebbe avere a disposizione personale a titolo gratuito per vigilare la sicurezza in strada nelle ville e davanti le scuole, spiega il capogruppo della Lega Palazzo del Carmine, che si riferisce ad un progetto avviato già in altri comuni. Tale progetto, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Giustizia e dell'Anci, aggiunge a una doppia finalità assicurare una maggiore tutela per gli utenti deboli della strada, ossia i pedoni, responsabilizzare chi ha commesso un reato in violazione del codice della strada. Si tratterebbe di un'iniziativa senza costi per il comune, dato che viene finanziato dal fondo vittime della strada e poi ancora entra nei dettagli. Le persone infatti prese in carico dall'Uepe, con riferimento, precisa Oscar Aiello, sia all'Istituto della Sospensione del Procedimento commessa alla prova, sia quale pena sostitutiva per i reati di guida e stato di ebrezza alcolica e sotto effetto di stupefacenti, Dopo un corso di formazione entreranno nel ruolo di assistenti pedonali, che, adeguatamente formati dagli agenti di Polizia Municipale, prosegue, presideranno gli attraversamenti pedonali laddove risulti un particolare volume di traffico, come ad esempio davanti le scuole o in qualunque altro luogo di aggregazione sociale.